Per l'ospedale di Lucri sta arrivando il momento delle scelte. Nella riunione di due giorni fa all'interno del presidio, che fa capo all'ASPE di Reggio Calabria, è stato anche toccato il delicato problema della ristrutturazione strutturale. La task force di esperti individuerà le principali criticità, ma è ovvio che il ripristino della funzionalità degli ascensori e della sicurezza degli impianti elettrici non rende per incanto il nosocomio di Lucri un'eccellenza. Rimangono sul tappeto troppe carenze per una struttura ospedaliera rispettosa della normativa in materia? Per questo motivo al Dipartimento regionale di tutela della salute comincia ad avanzare l'ipotesi di studiare la fattibilità della profonda riqualificazione del presidio ospedaliero. La base di partenza rimane il finanziamento da 15 milioni di euro, con la possibilità di ottenere ulteriori risorse legate alla contestuale implementazione tecnologica, quindi eventualmente anche macchinari, sempre che ci sia il lascia passare, del Ministero delle Economie e delle Finanze. Nel frattempo il direttore generale, il dottor Pasquale Mesiti, annuncia la nuova TAC, più in là, dice Mesiti, anche la risonanza magnetica. In questa settimana ci sarà l'affidamento di una nuova TAC sia all'ospedale di Lucri e sia a Polistina. E' la notizia che il dottor Pasquale Mesiti, direttore generale sanitario dell'Aspi di Reggio Calabria, divulga dopo le polemiche per i servizi televisivi sull'ospedale. Nella struttura dovrebbe quindi arrivare una TAC 64 digitale, capace cioè di ottenere ben 64 sezioni corporee. Mia intenzione è quella di prendere la nuova TAC 64 digitale, e specifica il direttore Mesiti, conservare la TAC famosa che c'è adesso. Se ci sono i termini tecnici del capitolato, questa sarebbe la mia intenzione. Non solo TAC, secondo quanto sostiene il direttore generale sanitario, potrebbe arrivare, nell'ospedale di Lucri, anche una tanto sognata e agognata risonanza magnetica.